Ciao a tutti ragazzi, oggi continuiamo con la nostra rubrica di guida all'acquisto e dopo aver visto le tende da trekking, oggi guardiamo il trekking perché se è vero che la tenda costituisce la casa di ogni viaggiatore lo zaino costituisce il nostro bagaglio in cui andremo a tenere la nostra casa perciò in questa guida andiamo a vedere pregi e difetti di ogni singola tecnologia andremo a vedere le tipologie di tecnologie che esistono e a seguito delle mie esperienze fatte sul campo vi darò dei consigli per poter acquistare al meglio il vostro futuro zaino il primo punto di cui voglio parlare è l'impermeabilità qua esiste una corrente di pensiero che personalmente io non condivido ovvero quella di mettere un sacchetto della spazzatura o comunque un sacchetto di nylon all'interno dello zaino per renderlo impermeabile perché tenete conto che il 98% degli zaino sono impermeabili io ve lo sconsiglio per due motivi il primo è che comunque lo zaino se non è pensato per essere impermeabile appunto non è pensato per prendere l'acqua quindi se ci prendiamo l'acqua una volta o due volte può capitare assolutamente ma se facciamo tanto trekking e lo zaino si bagna spesso questo rischierà di diminuirne la vita stessa dello zaino quindi magari è uno zaino che dura dieci anni dovremmo cambiarlo dopo due anni o ancora peggio rischiamo che si crei della muffa o dei funghi all'interno del nostro zaino se poi non lo asciughiamo bene quindi personalmente io ve lo sconsiglio completamente di mettere un sacco all'interno dello zaino ma tenete conto che il 90% dei produttori da il rain cover cos'è? non è altro che non ha se un simile a un sacco di quelli della spazzatura che si mette dentro con un materiale decisamente migliore che noi possiamo utilizzare per andare a ricoprire il nostro zaino quindi questo è il rain cover dato in dotazione con questo zaino e così facendo lo zaino diventa totalmente impermeabile e oltre a salvare anche lo zaino in sé come potete vedere possiamo anche magari avere fuori qualche oggetto appeso e riusciremo a salvare anche lui altrimenti se noi abbiamo qualche oggetto fuori appeso e teniamo lo zaino con lo sacco all'interno anche gli oggetti fuori andranno a bagnarsi molto semplicemente secondo aspetto che non mi piace di mettere dentro un sacco dello zaino è che se abbiamo uno zaino magari con delle aperture frontali beh l'apertura frontale a questo punto non avrà più senso di esistere perché una volta che noi apriremo lo zaino non potremo più prendere niente perché avremo naturalmente il sacco che andrà a impedircelo se vogliamo avviare tutto ciò se proprio i rain cover non vi piacciono proprio li odiate beh allora esiste un'altra alternativa esistono degli zaini come questo ferrino come in bana H-Dry che è totalmente impermeabile quindi qualsiasi cosa noi andremo a mettere all'interno dello zaino senza rain cover non si bagnerà a voi la scelta io sinceramente preferisco sempre utilizzare un rain cover perché dato che gli zaini impermeabili sono pochi e di solito anche di basso litraggio se andiamo a prendere uno zaino di grosso litraggio è sempre meglio utilizzare il rain cover ora analizziamo un attimo la parte frontale degli zaini qui troviamo due tipi di soluzioni per gli zaini più piccoli a basso litraggio di solito troviamo uno zaino a tutta lunghezza dentro non è suddiviso abbiamo un'unica tasca magari accessibile solamente dall'alto in cui andare a riporre tutti i nostri accessori questo perché di solito in questi tipi di zaini sono pensati per star fuori pochi giorni mentre su uno zaino molto più grosso come può essere uno zaino da 50 litri oltre troviamo già due tipi di accessi quindi la tascona principale in alto più un'altra parte sottostante questa parte sottostante è pensata soprattutto per andare a riporre magari tenda, sacco a pelo, materassino quelle cose che andiamo a utilizzare una volta al giorno quando ci fermiamo e nella parte in alto tutto il resto anche perché poi qua sotto come vedremo successivamente di solito andiamo a caricare magari anche le cose più pesanti perché essendo in basso adiacenti al corpo vengono scaricate meglio anche sulla fascia lombare quindi come dicevo abbiamo la parte sotto e poi tutto il tascone principale ma non solo questi zaini così grossi proprio perché soprattutto magari gli zaini anche da 80 litri abbiamo un grosso volume tanti oggetti all'interno gli produttori cosa si sono inventati? si sono inventati anche un accesso frontale agli zaini tipo a borsone come se lo può avere questo zaino ovvero io qui se vado ad aprire queste due cerniere posso benissimo arrivare al contenuto interno dello zaino così da poter apprendere gli oggetti che ho riposto nel tascone principale ma comunque in basso parliamo ora degli schienali degli zaini che è forse la parte anche più interessante rispetto a quella frontale qui abbiamo due tipologie principali gli schienali a rete e gli schienali ergonomici diciamo che gli schienali a rete sono più pensati per gli zaini fino ai 50 litri più o meno per zaini dove dobbiamo portare meno materiale quindi dove anche se lo scarico del peso non è eccezionale vanno comunque bene perché offrono una grandissima traspirabilità invece per gli zaini più grossi abbiamo questo sistema ergonomico che si appoggia molto di più alla schiena aiutandone quindi a scaricare meglio il peso a distribuire il peso su tutta la schiena di contro però andando ad appoggiarsi alla schiena tendono a far studare di più anche se i produttori utilizzano dei materiali di solito molto traspiranti si va comunque a sudare di più gli schienali a rete allo stesso modo però molte volte non sono regolabili quindi noi in negozio dobbiamo essere sicuri che il nostro zaino con lo schiena a rete ci aderisca perfettamente che non sia né troppo alto né troppo basso perché non potremo andare a modificarlo l'altezza dello zaino è quella sono quei centimetri e non potremo andare a modificarla gli zaini ergonomici invece proprio per aderire meglio al nostro corpo molte volte hanno questi sistemi in cui noi possiamo andare a regolare anche l'altezza dello zaino quindi noi possiamo benissimo andare ad alzare ad abbassare il nostro schienale in questo modo noi così facendo possiamo andare a regolarcelo in base alla nostra altezza esistono però anche delle eccezioni a questi due sistemi a rete ed ergonomici per esempio questo back ha un sistema ibrido come potete vedere abbiamo sia la rete che la parte ergonomica sicuramente è uno zaino che scaricherà bene il peso vista la parte ergonomica che aderisce molto la schiena e grazie alla rete sarà molto areggiato tenete conto poi che molti produttori hanno anche sviluppato la loro singola tecnologia per esempio settimana scorsa abbiamo recensito il saleva con la sua tecnologia Ergotech che è completamente diversa quindi queste sono le grandi due categorie poi ogni singolo produttore può andare a sviluppare il suo di sistema e quello è da vedere singolarmente per il singolo zaino sempre parlando del sostegno che possono darci gli zaini troviamo zaini con un sostegno praticamente nullo perché sono pensati magari per escursioni di pochi giorni o giornaliere dove noi andiamo a portare poco peso quindi il sostegno non ce n'è praticamente bisogno oppure abbiamo zaini grossi dove portiamo alto carico tanti chili che presentano un sostegno con delle barre all'interno di solito in ferro o materiale simile proprio per darci sostegno alla schiena per portare tutto questo carico per riuscire anche a ridistribuire meglio il peso su tutta la schiena tenete conto però che queste barre in ferro nel caso dovessimo lavare lo zaino possono essere difficili da estrarre e da rimettere dentro parlando di fasce lombari invece abbiamo due diversi tipi quelle completamente integrate all'interno del nostro schienale che hanno come vantaggio quello di scaricare il peso un 5% meglio però di contro essendo completamente integrate la fascia lombare non si può togliere quindi se dovessimo utilizzare per qualche motivo un imbrago darebbe fastidio l'altra famiglia invece sono le fasce lombari quelle non completamente integrate e che quindi scaricano un pochino peggio proprio perché non sono completamente integrate poca roba parliamo sempre del solito 5% però la fascia lombare si può togliere e quindi se dovessimo utilizzare un imbrago possiamo benissimo andare a toglierlo e utilizzare senza il fasce lombare sul mercato esistono tantissimi zaini di tantissimi produttori e ogni produttore nel tentativo di vendere il suo zaino aggiunge sempre qualche accessorio in più accessorio in meno qualche accessorio nuovo e via dicendo quindi dalla mia esperienza ho potuto vedere che ci sono accessori più utili accessori meno utili alcuni che sono semplicemente peso in più che ci portiamo dietro quindi adesso vado a riportarvi quali secondo me sono gli accessori più utili per chi fa trekking partiamo con quello che personalmente ritengo veramente un accessorio super utile ovvero una tasca esterna personalmente io le preferisco o a rete fatte così dove io posso andare a infilare dentro la mia felpa e ritoglierla nel caso devo indossarla quindi o a rete in questo modo oppure una tasca fatta in quest'altro modo con del tessuto del materiale che però ha della parte in rete sempre che anche qua dentro io posso andare comunque a mettere degli oggetti anche abbastanza voluminosi nel caso in cui si compra qualcosa in giro e comunque la tasca si andrebbe a chiudere senza nessun problema allo stesso modo vi consiglio sempre di prendere degli zaini con le tasche per le borracce in rete esistono degli zaini che hanno le tasche per le borracce chiuse con una cerniera io ve le sconsiglio innanzitutto perché magari noi abbiamo una borraccia un pochino più grossa e quindi magari questa non ci entra ma allo stesso modo perché mettete che la borraccia perda per qualche motivo o produca condensa nella tasca a rete l'acqua andrà a uscire mentre uno zaino chiuso con la cerniera andrà a bagnarvi tutto lo zaino e allo stesso modo ultimamente i produttori stanno sviluppando delle tasche dove noi possiamo andare a riporre e a togliere in autonomia la borraccia questa secondo me è una feature che non dobbiamo farci scappare quando acquistiamo uno zaino perché se noi riusciamo a prendere e mettere la borraccia da soli berremo di più durante il nostro trekking e questo ha conseguenze sicuramente positive per la nostra camminata allo stesso modo sicuramente dei portabastoncini possiamo averli o singoli quindi due bastoncini nella stessa fettuccia oppure divisi quindi un bastoncino per ogni fettuccia questo sinceramente io penso sia un po' indifferente un altro aspetto da tenere in considerazione se dobbiamo portare dell'ultimo materiale che alcuni zaini hanno delle fettucce e in dotazione troviamo delle cinghie con le quali possiamo trasportare all'esterno del materiale aggiuntivo per esempio delle ciaspole oppure negli zaini da trekking possiamo trasportare al di sotto magari un materassino un sacco a pedo voluminoso o una tenda soprattutto per gli zaini da trekking molto grossi il mio consiglio è sempre quello di prenderli con tante cinghie di compressione questo perché se noi utilizziamo lo zaino per qualche motivo un pochino più scarico magari abbiamo dentro il cibo e durante il cammino andiamo a consumarlo quindi lo zaino andrà a ridursi con questo potremo andare a tirarlo e a comprimerlo quindi a farcelo aderire molto meglio al corpo e in qualsiasi caso non avere uno zaino tozzo che può ostacolarci nel cammino o magari impigliarsi in qualche ramo o in qualche roccia ultimo consiglio che mi sento di darvi è quello di prendere degli zaini che abbiano delle belle tasche sulla fascia lombare questo perché sulla fascia lombare noi non sentiamo tanto peso e possiamo riporci anche una piccola macchina fotografica il telefono e comunque qualsiasi oggetto dobbiamo avere a portata di mano esistono zaini che non ce li hanno proprio esistono zaini che ce li hanno o solo a destra o solo a sinistra e zaini che ce li hanno da entrambe le parti io consiglio sempre da entrambe le parti perché possiamo stivare più materiale comunque in generale evitiamo di prendere magari degli zaini senza tasche sulla cimiglia lombare dopo aver analizzato le varie tipologie di schienale le varie tipologie di frontale e via dicendo andiamo a vedere anche i litraggi che possiamo trovare e per chi sono consigliati i vari litraggi teniamo conto che esistono tantissimi litraggi e che ogni singolo litraggio ha il suo utilizzo quindi evitiamo di prendere che ne so zaini piccoli per fare dei trekking e poi riempirli fuori perché all'interno non c'è il materiale o viceversa degli zaini troppo grossi e poi andare in giro con gli zaini vuoti perché stanno facendo un'escursione da poche ore quindi cosa troviamo? iniziamo con i zaini più piccoli quello che vi presento in questo momento è un ferrino agile 25 litri appunto 25 litri perché gli zaini da escursione giornaliera di solito stanno tra i 15 e i 30 litri con un peso che personalmente io consiglio di stare sempre sotto il chilo o comunque attorno al chilo questi zaini sono pensati appunto per escursioni giornaliere quindi dove dobbiamo portare poco materiale quindi di solito non hanno una struttura sullo schienale così pronunciata come può essere per uno zaino dove dobbiamo portare più materiale anzi di solito questi tendono ad essere comunque molto traspiranti perché magari si possono utilizzare anche in contesti diversi quali magari della città e via dicendo quindi i zaini piccoli fino ai 30 litri teniamo conto si chiamano day pack e per escursioni in giornata passiamo ora a uno zaino invece pensato per magari delle escursioni di più giorni dove andiamo in rifugio a dormire quello che vi presento al momento è il the north face idra da 38 litri uno zaino pensato appunto per escursioni da più giorni uno zaino che inizia ad avere già una struttura in ferro nel caso dovessimo portare un pochino più di materiale come potete vedere con uno schienale a rete questi zaini in generale diciamo che dovrebbero pesare tra il chilo e il chilo e mezzo non di più che come litraggio dobbiamo stare tra i 30 e i 40 45 litri e già da questi zaini inizierei a cercare delle tasche esterne dove andiamo a riporre delle cartine degli indumenti in più e via dicendo questo perché magari stanno in giro diversi giorni possiamo anche comprare qualcosa in qualche rifugio e dovercelo portare a casa passiamo ora agli zaini per i trekking di più giorni partiamo da lui il back dei Dream 50 questo qua come potete vedere è uno zaino pensato per dei trekking di più giorni anche in autonomia con la tenda qua sotto abbiamo appunto lo spazio per andare a riporre tenda saccopelo e materassino e abbiamo poi tutto il tascone centrale come abbiamo visto prima abbiamo anche la tasca per poterlo aprire sul frontale visto che è un zaino molto grosso e teniamo conto che di solito gli zaini per delle escursioni da trekking stanno tra i 45 e 50 fino ai 65 e 70 più o meno non andrei oltre perché se andiamo oltre per quanto riguarda questa tipologia di zaino beh io personalmente consiglierei innanzitutto di rivalutare quello che stiamo portando dietro perché forse stiamo portando dietro più paure del necessario il peso di questi zaini inizia ad essere un pochino più elevato qui troviamo zaini che possono pesare dal chilo e mezzo ai due chili e alcune volte superare anche i due chili io personalmente vi consiglio di stare sotto i due chili perché già uno zaino da due chili è impegnativo da portare quindi teniamo un conto sul chilo e mezzo proseguendo arriviamo agli zaini beh quelli proprio d'avventura quelli proprio per affrontare le parti più sperdute del nostro pianeta quindi gli zaini da viaggio gli zaini da spedizione in questo caso qui abbiamo un ferrino transalp 80 da 80 litri uno zaino mastodontico con il quale ci si può portare pesi veramente esagerati io con questo ci ho portato 20 chili e oltre abbiamo una tasca sottostante enorme davvero qua ci sta dentro la qualunque e in generale lo zaino è veramente grosso ma qui perché dobbiamo magari stare in giro un mese contando di avere dietro tutto il cibo e tutto il necessario anche in caso di inconvenienti anche di emergenza perché magari siamo sperduti da qualche parte del mondo in questo caso beh gli zaini vanno di solito dagli 80 litri in su e teniamo conto che questi possono pesare di solito dai 2 chili in su quindi ragazzi il video finisce qui io spero di essere stato esauriente ed esaustivo e se avete qualsiasi tipo di domanda non esistate a farmela qua sotto nei commenti in caso altrimenti ci vediamo al prossimo video ciao